Ciao bambini, oggi vi racconto una storia che a me piace molto, è intitolata Una bella serenata. Nel paese dell'amore c'era un bravo suonatore, mentre un giorno passeggiava e tranquillo fischiettava, affacciato a una finestra con un fiore nella destra e a sinistra una frittella, vide una ragazza bella. Presto lui si innamorò e una cosa progettò, le farò una serenata, sarà presto conquistata. Detto fatto col clarino, quella sera pian pianino, le suonò per due mezz'ore una musica d'amore e alla fine lui finì, ma la bella non aprì. Apri, gridò lui scontento, come, cosa, non ti sento. Il melodico amatore ritornò dopo due ore, col violino lo accordò e con forza lo suonò. Alla fine lui finì, ma la bella non aprì. Apri, apri, gridò lui infelice. Non ti sento, lei gli dice. Dunque lui portò una tromba, che strombetta che rimbomba, e soffiando più non posso, diventando tutto rosso. Fece la sua serenata, alta, forte e ben squillata, e alla fine lui finì, ma la bella non aprì. Apri, apri, la implorò. Non ti sento, lei grido. Così sotto la finestra lui portò una grande orchestra. Sei gran casse, otto violini, più di dodici clarini, e chitarre, trombe, viole, piatti, cembali e mandole. E suonò talmente forte che crollarono le porte. Poi picchiò sopra i tamburi, fino a far crollare i muri. Finì quella serenata, e la casa era crollata. La ragazza loro uscì, starnutì e sputtacchiò. Hai sentito? Lui le chiese. Disse sì, e si arrese. Dopo averla persuasa, la portò nella sua casa, dove vissero felici, con sei figli e nove amici, pentole per cucinare e strumenti per suonare. Vi è piaciuta?